è pazzesco è pazzesco è semplicemente pazzesco c'è l'invidia e la cattiveria che hanno certi italiani nei confronti dei altri italiani allora sto aiutando delle situazioni in difficoltà ok appena mi hanno comunque contattato li sto facendo già avere degli aiuti alimentari perché ragazzi qui quando qualcuno ha anche difficoltà di mettere insieme il pranzo con la cena non è che la situazione è molto facile ok e subito iniziano la gente oggi su facebook ho detto ho fatto vedere se questa ringrazio questa questa mia amica russa col marito stefano che sono subito prestati a portargli degli aiuti c'è appena portato messo questo video arrivato uno ragazzi oh guarda che bella macchina la lancia y ma questo non è in difficoltà ma piteco piteco la lancia y del mio amico e di sua moglie che gli stanno portando gli aiuti quello è venuto giù a dargli una mano per portare sulle borse non c'hanno neanche la macchina questa famiglia hanno sempre da criticare poi è arrivato l'altro la beneficenza gli aiuti si fanno in silenzio tu cosa invece cosa fai spiegami tu cosa fai contribuisci dai degli aiuti cosa fai a parte criticare perché la cosa bella che quelli che criticano sono quelli che non fanno niente assolutamente noi purtroppo ci abbiamo un grande problema ragazzi a però non è che mi hanno scritto c'è questa ragazza russa andata ad aiutare non è che mi hanno scritto e non so albanesi uno italiani che ce l'hanno con gli altri italiani perché il vero problema di questa nazione il vero cancro di questa nazione sono questi italiani marci invidiosi che vorrebbero vedere i propri connazionali in mezzo alla strada questa è il vero problema e lo stesso succede purtroppo quando andiamo all'estero che tutti che se lo mettono in quel posto veramente è una cosa allucinante è una cosa allucinante cioè noi siamo gli unici che fra di noi non è che ci diamo una mano invidia gelosie rancori ma come siamo messi ragazzi come siamo messi ci ho messo la faccia io e mettendoci la faccia io ho avuto delle persone che mi hanno dato una mano per aiutare tutta questa serie di persone in difficoltà oggi andrò aiutare altre tre situazioni in difficoltà una che mi hanno chiesto un aiuto ieri glielo porto subito immediatamente una bella spesa anche per loro un'altra situazione di bimbi li porto i vestiti poi vi farò vedere il tutto ringrazio tanti italiani che sono all'estero che sono andati via da questo schifo da questa invidia da questa cattiveria che da tutte le parti del mondo mi danno una mano per aiutare le persone in difficoltà ringrazio ci sono anche due tre imprenditori uno uno eccezionale altri due che perché ci ho messo la faccia io mi stanno dando una mano per le persone in difficoltà quindi non tutti gli imprenditori sono cattivoni robo robo anzi anche loro in questo momento sanno che purtroppo i cittadini molti hanno delle difficoltà e sono delle persone eccezionali devo dire che dalla politica non ho avuto nessuna risposta da personaggi vip della radio e dello spettacolo non ho avuto nessuna risposta da calciatori roba non ho avuto nessuna risposta ma magari lo faranno per i cavoli loro sono contento per loro ringrazio tutte le persone che mi stanno dando una mano tramite la paypal che metto sotto di riprendimento di l'ambri nel letto oppure ivairone chioccio hotmail.com e il codice iban ragazzi io adesso sono entrate altre tre situazioni che non è che voglio portargli una volta voglio comunque ogni ogni 10 15 giorni portargli qualcosina quindi abbiamo una decina di famiglie che stiamo dando la mano sto dando la mano al mauri oggi al mauri gli do anche qualcosa per pagare le bollette visto che c'è anche un discorso arretrato gli ho preso dei vestiti perché comunque anche lui sono sempre le solite cose dal prossimo anno quando spero finisca tutta questa situazione vedremo anche di magari trovare qualche situazione lavorativa visto che un po di imprenditori li conosco magari hanno bisogno un po di lavoro anche se devo dire che nella mia azienda per esempio in questo momento purtroppo siamo fermi allora io dico ragazzi io ringrazio le persone che mi stanno aiutando ma sono veramente stufo sono veramente stanco di queste persone che hanno solo sono stanco sono stufo di queste persone chiuse nella loro stanzetta che hanno solo da criticare mettetevi mettetevi ad aiutare le persone date una mano alle persone fate quello che faccio io che dico il mio tempo comunque per aiutare le persone in difficoltà portate degli pacchi portate degli aiuti finitela con questo con questo mangiare giro che siete lì veramente fate schifo fate ci sono persone veramente in difficoltà in un momento di difficoltà del genere se fra di noi non rimaniamo uniti non rimaniamo non ci aiutiamo fra di noi ragazzi finisce male qui finisce male ragazzi adesso è ora di finirla di giocare con le cretinate qui ragazzi finisce male se non ci diamo una mano fra di noi qui ragazzi finisce male basta sono stufo di questa gente capisco che tanti italiani se ne sono andati via all'estero perché non ce la facevano più a sopportare questa situazione ma è possibile che fra noi italiani dobbiamo sempre stare lì in viglia roba di qua ma è possibile non riusciamo una volta essere fratelli fra di noi e darci una mano io oggi ho aiutato una famiglia pugliese una famiglia siciliana sono del nord che sto aiutando delle persone del sud italia che sono in difficoltà qua al nord ma non riusciamo fra di noi a darci una mano essere fratelli fra di noi ma è possibile che tutte le volte la gente deve essere sempre rancorosa ringrazio tutte le persone ragazzi che comunque mi stanno aiutando tramite la paypal e l'iban per portare un po di aiuto alle persone in difficoltà li ringrazio veramente ci sono delle persone che comunque non sono tantissime mi aspettavo comunque di più però le brave persone ci sono però basta ragazzi basta veramente dobbiamo essere uniti fra di noi fratelli fra di noi